Nel quarto set, padrone di casa, avanti, due parziali a uno sulla Zanetti Bergamo e 16 a 13, pasticciano concedendo una free ball alla Lardini le ragazze della Zanetti che però recuperano, non chiude ancora Asia con gli Andro, la grande reattività in difesa di tutte e due le squadre con Anti Vasilan Tonaki, il suo money out alla rincorsa del pallone, c'è tutto il Palavaldinelli di Osimo a cercare di mettere giù questo pallone che vede la Tominaga alla fine fare appunto una serie di difese molto molto belle e poi Koyomi Tominaga è il suo punto che vale quota 17.